Benvenuti sul canale YouTube, io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Qui potrete trovare video che parlano di educazione finanziaria, con l'ambizione di divulgare per imprenditori e famiglie i termini che sono legati al mondo dell'economia. Troverete esempi di imprenditori, di famiglie, troverete esempi nostri come educatori finanziari per meglio comprendere il mondo dell'economia. Vi aspettiamo qui sul canale di YouTube di Maurizio Poli.